Finalmente il mio giorno è arrivato, finalmente potrò guidare la mia nave ed insegnare a Ferinichi ad essere una piratessa, non vedevo l'ora Stef! Dimmi Fere! Scusa, ma dove è il negozio dei dolci? Perché io qui nella mappa non lo vedo, cioè mi sai dire dove devo andare per mangiare? Lì a destra Fere! No, a destra c'è l'acqua, scusa, a destra c'è l'acqua, cioè io vorrei mangiare, non voglio andare in mezzo all'oceano, ok? I pirati che cercano le caramelle meritano solo di affogare, quindi vai in acqua Fere! E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Stef, che si giochiamo a Roblox E oggi siamo qui con le mappe a tema dei pirati, perché così finalmente Stef è felice e giochiamo a qualcosa che piace a lui Che bella giornata, ma che bella giornata Sei felice, sei felice? Il sole splende nel cielo Ma notte Nella realtà, Fere Però adesso è notte, al massimo la luna è alta nel cielo, dovevi farlo così Fere, lo vedi questo? Lo vedi questo? Oggi ti insegnerò ad essere un pirata, ok? Ok Dovrai seguirmi alla lettera, fare tutto quello che ti dico, perché la prima regola di un pirata qual è Fere? Prendere il coltello No, ci sei quasi, dai Un pirata, per essere un pirata che cosa deve avere? La nave Bravissima Quindi il nostro primo obiettivo è prendere nei materiali e costruirci la nostra prima nave Perché altrimenti non siamo dei miei pirati Allora, dovevo pure costruire? Sì, Fere No, ma è troppo fatica qua Fere, torna qua Ciao Fere Ascolta, devo chiederti una cosa Sì, dimmi, dimmi Ma qua ci sono un sacco di casette, posso avere la mia? No Perché i pirati non hanno una casa, è la seconda regola, Fere Allora, adesso ti insegno, andremo insieme e ognuno nella propria barca Oh no A fare l'economia Ok, perché da pirata alla base, prima di assaltare le navi pirate altrui e rubare i soldi eccetera eccetera C'è il commerciare Quindi praticamente dobbiamo parcheggiare da questo tizio, lo vedi? Questo è verso dove stia andando, al moletto Prendere una scatola, quindi comprarla da lui Dopodiché dobbiamo andare in isole più lontane Più lontane Ok E a quel punto venderemo la merce che abbiamo comprato da lui a poco e la venderemo molto Ok Cosa mi compro? Potrei comprare della carta, dello zucchero o del cocco Io mi compro dello zucchero Anzi no, facciamo la carta, mi piace commerciare la carta Ho un problema E che c'è? Perché la mia barca sta andando da sola lì giù? Perché devi mettere il freno, Fere Il freno a mano Sta schiantando con la barca più grande, guarda Non è propriamente un freno a mano, però comunque un freno Ti toccherà tornare fino alla nuoto, Fere Non la posso far rieparire qua? No, sti serviva del dockmaster Allora, io voglio quanti soldi ho, dove vedo quanti soldi ho? Cioè devo comprarle le cose, no? Sì, sì, poi Fai G e vedi i soldi Fere, 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 fere Eh, no, no, non riesco a controllarla bene, mi paziente Allora, attenta che c'è un guest che cerca di salirci nelle navi per rompere le scattere Non ci provare Allora, vedi che ci sono delle isole lì alla destra? In lontananza? Destra, Fere Eh, un attimo, aspetta Sto cercando di frenare, di capire come si accelera, come si decelera Ok Quindi devo un attimo Le vedi? Ok, sì, credo che sì Perfetto, dobbiamo andare lì e vendere la merce che noi abbiamo È difficilissimo guidare Vai Guarda male che ti ho schivato Dietro di noi c'è una nave gigantesca che ci sta inseguendo Quindi continua ad andare dritta e spera che non ci raggiunga È gigante Lo so, Fere Se ci prende è problematico Ma tu perché non hai una barca così bella? Dovresti essere esperto e invece c'è la barchetta schicosa come la mia Perché l'ha lasciata a Capitan Jeff Ma non è vero, Capitan Jeff è nella tua spalla Perché lui non ha la barca presso? Perché l'ha lasciata parcheggiata in un'isola lontana E non sa più come tornarci Perché a volare non è molto bravo Capitan Jeff È un po' una schiappa E allora cosa serve? Eh, non lo so bene neanche io Fere Che è successo? Ti sta affiancando Ti sta per prendere, Fere Cosa vuole? Probabilmente rubarti tutta la merce Ma c'ho solo Sì, sì, ti sta chiudendo la strada Fere Ti sta portando lì Ma devi aiutarmi Ciao, Fere Esatto, continua a nuotare Io cerco a venire a prenderti Allora, aspetta Vieni, vieni, vieni Sto scappando da sto disgraziato Me ne pentirò Me ne pentirò Ma non ce la fai, non ce la fai Notando sono più veloce Allora, arrivo Torno indietro, prendimi Ti direi Sono col mio barile di zucchero Qui l'acqua Ti direi se andiamo nella sua barca E picchiamolo Ma la realtà delle cose È che lui è armato E lo so, lo so, lo so Dimmi che sono ancora inutile, Fere Dimmi che sono ancora inutile Ma se vi sia avuto un cannone Mi avresti salvato Invece la mia brachetta È lì buttata Nel mezzo dell'oceano Tanto la puoi far dispawnare Prova a premere B comunque Ma io sono arrabbiatissima In questo Mi hai fatto volare giù Sì, però vedi che hai poggiato La merce Preferivo tenerla Come se fosse Capito Parte complementare Perché mi hai fatto buttare la merce È scomparsa, Fere Fere, non la puoi ritrovare Perché mi hai fatto premere B, scusami Perché pensavo che te la parcheggiasse Vabbè, me lo ripaghi tu lo zucchero Me lo ricompri e lo riporto Facciamo così Vabbè È stata tua l'idea Adesso me lo ricompri Ok, Fere Che poi non voleva neanche rubare Voleva solo dare fastidio Sì, sì, sì Sono arrabbiatissima Perché eri troppo lenta C'ha ragione, c'ha ragione Adesso un pirata non può andare così lento Il mare è grande Cioè lui andava nella sua direzione Nella mia E neanche lo calcolavo No, ma eri proprio un insulto Agli altri pirati Adesso tanto lo vado ad ammazzare Fammi scendere dalla barca E vado Con il coltellino svizzero Sì, sì, sì Tanto ho perso lo zucchero Non ho più niente da perdere Io vado a ucciderlo Hai perso la barca Hai perso lo zucchero Ancora lì in mezzo Ti rimane solo il coltello ormai Esatto E quindi io lo uccido Va bene, Fere Adesso io prendo la mia merce Premendo B Salto Buongiorno Faccio B qua E l'ho venduta A 25 Boh Non lo sai neanche tu Quindi non serve a molto L'ho venduta L'ho venduta No, no, l'ho venduta È troppo lontana Qua invece posso comprare Delle mele Del formaggio E qualcosa che non so cosa sia Abbiamo comprato delle mele E del formaggio Stiamo tornando All'isola principale Per andare a venderle Finalmente Fere ha capito un po' Come si naviga E sta andando alla massima L'avevo capito anche prima No, Fere Hai fatto degli errori incredibili Guarda che era bagata la velocità Io premevo i tasti Che mi dicevi Non succedeva nulla Adesso funziona Sì, sì Va bene È perché mi ha capito Tamponato In un altro caso Un'altra cosa molto importante Che devi sapere Se vuoi essere un bel pirata È che ovviamente Il vento ha un impatto importante Quindi Tramite quella bandierina Che c'è sopra la vela Tu capisci Verso dove sta battendo il vento E quindi Se tu vai in quella direzione Vai più veloce Ok, ce l'ho fatta Vieni qua Premi B Et voilà Venduto Oh, che bello Ho fatto 75 Sì, sì Quindi io l'ho pagato 60 Ho guadagnato 15 No, non proprio Perché Dice tutta una storia strana Un po' difficile capire realmente i guadagni Però partire dal presupposto Che io sono arrivata a 600 totale Quindi ho guadagnato bene Tra la prima e la seconda Ok? Ok, ok Allora A questo punto Vieni con me Vieni con me Vieni con me Ci sono Le barche le lasciamo qua E torniamo nella terraferma E vediamo se scopriamo qualcosa Per prenderci appunto Le cose bellissime esteticamente Abbiamo parlato con il Mysterious Sailor E ci ha dato una missione Per trovare il suo capitano Che è impazzito Diciamo per un tesoro Quindi un qualcosa di meraviglioso Lui è totalmente impazzito Ed è rimasto dentro la sua nave Ci ha dato Diciamo le coordinate su dove andare Per raggiungerla E secondo me ragazzi Lì si troverà Uno dei due premi estetici Quindi Allora Dobbiamo prendere la nostra nave Secondo te Io sto tornando Dove l'ho parcheggiata prima Ah no Io l'ho fatta rispawnare E sto andando Ok Sei stata furba Guarda le nuove giganti Che ci sono lì parcheggiate Eh sì 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 Adesso penso che tutti vorranno andare A cercare il tesoro Sì Anche perché credo Che se tu hai una nave gigante Ok Ok Puoi parcheggiare più merce E quindi venderne di più alla volta Sì E quindi guadagnare di più Allora Sicuramente Sicuramente così Quindi Io visto che ci sono Mi compro della merce Comunque a fare I pirati fanno cose Non me la dice il testo Volevo cantarla io Perché hai messo una canzone per bambini Io pensavo mettessi Quelle dei pirati Delle ciurme Hai capito I canti dei pirati Eh lo so Ma non ne ho trovato nemmeno una Ti rendi conto? Ti rendi conto? È grave Tu le dovresti sapere a memoria Dato che sei un pirata Non dovresti aver bisogno di youtube Per cercare le canzoni dei pirati Punto uno I pirati sanno che Non si canta in mare Perché porta sfiga Sì E si muore affogati Fai piovere poi Vero? Fai piovere Fai piovere Allora io sto continuando a viaggiare Quando arriviamo Sì però siamo arrivati alla terra no? Spero sia questa Lo spero anche io Perché noi abbiamo giusto una freccia bianca Non è che abbiamo Non sappiamo quanto Era tipo Freeport Quindi se noi arriviamo qui Si chiama Freeport Siamo arrivati Perfetto 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 Dai speriamo che sia qui Perché non ne posso più di stare Sulla mia barca Mi fa un po' male il sederino Perché è scomoda Non ha i cuscinetti Per sedersi in modo decente Capisci? Sì è una zattera questa Non è neanche una barca È una barchetta Su Vieni Steph Dove Fede? L'ho trovato L'ho trovato Segui la freccia Ed è qua È un po' pesante la mia scatola Sei sceso? Sì sta arrivando Ma sta arrivando con tutte le scatole Una una L'altra l'ho dovuta lasciare in barca Allora è un po' impazzito Te lo dico Quindi fai attenzione Allora Aspetta Guardalo Lo vedi? Ma che fa? Eh boh non lo so Buongiorno capitano Buongiorno Buongiorno Allora Mi sa che è ubriaco Freep Vero? Sì Allora Sì noi vogliamo andare a trovare Il tesoro Ok Quindi dacci qualche informazione Utile per capire dove si trova Leggiamo un attimo E vi diciamo Il capitano ci ha chiesto Dieci di legna Non ho ben capito Per che cosa? Quindi Per la sua nave Perché se ti ricordi Vendo questa merce Lui è la nave rotta Ed è qui per ripararla Ti ricordi? Ce l'ha detto l'altro capitano Quindi gli serve per riparare la nave Ok Non ascolta neanche le storie dei pirati Allora Prendi la tua bellissima ascia Come faccio ad avere dieci di legna? Eh Devi mettere tre Quindi l'ascia Eh no L'ho capito Però la legna Sugli alberi Vado gli alberi Sì 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 Fai sinistro Sugli alberi E inizi piano piano a ricevere della legna Appena ogni dieci Torniamo dal capitano E gliela diamo Dieci di legna fatti Quindi dagli dieci di legna Ok Eh vabbè Eh vabbè Come facciamo a prenderli? Sulle pietre Io non ce l'ho un piccone Sì Fede è l'uno Allora vediamo un pochettino cosa vuole dopo Ok Dieci round shot Oh vabbè Mamma mia Nova Balers Balresta Cosa vuole? No Mamma mia Quanto ci abbiamo messo? Dieci minuti Fede Io ancora non ho finito Sì dieci minuti di viaggio Per prenderli cosa sono dieci succhi di frutta Ma non se li poteva prendere da solo No vabbè Ha ragione Da quanto sono lontani non poteva andare da solo Ha fatto bene a mandare qualcun altro Cioè gli abbiamo dato tutti i materiali per ripararsi la nave Te la ripari E te lo vai a prendere da solo No ha detto che aveva bisogno anche delle bibite Per forza Fede Ha ragione lui Sì è un viziato Allora qua ci dovrebbe essere il bar E questa cittadina è molto bellina Ti piace un sacco? Dovvero? Eh io la vedo in lontananza Ancora lontanissima Guardate Non vado l'ora di arrivare Guardate The Sword and Star Che l'aveva chiamata infatti così il bar Quindi io entro Ma che bellino Questa mappa è bellissima comunque Perché non abbiamo mai giocato questa mappa Fede? Non lo so In effetti perché non l'abbiamo mai giocata? Bella domanda Allora Mi aveva chiesto il lime juice Quindi Dieci Due Secondo me è un cinque Fede No erano dieci Vuole dieci di tutto Anche dieci succhi di frutta Sei sicura? Nel caso cinque te li bevi tu Che ti devo dire No erano dieci Vabbè Cioè vuoi rischiare Prenderne di me No no Di farti tutto questo viaggio Non mi piace rischiare Io la voglio rischiare Quindi vedi te Però voglio fare una scommessa Secondo me erano cinque Ok? No sono dieci Sono dieci Secondo me erano cinque Ah mamma mia Che lungo viaggio Erano dieci minuti Queste volte mi sono sembrati Quaranta Esatto Esatto Fede l'ho lasciata In mezzo al mare lì A continuare il suo viaggio Perché è indietrissimo Non so tra quanto arriverà Però io sono arrivato C'è uno che ha cercato Di tamponarmi Era con una scarita rossa? Sì Anche come ci ha provato Però l'ho schivato L'ho schivato E boh Sto ne sta andando Nella sua direzione Ci ha provato anche come Allora Prima di tutto vendo la merce Che ho portato Che erano appunto Delle lanterne Che credo che varranno parecchio Io ho comprato E infatti Del sale Del sale Sì Fa un sacco di soldi Fa un sacco di soldi Davvero? Davvero? Sì 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 Almeno vale la pena Allora Però sono poverissimo Ho solo 269 Perché ho speso tantissimo Per le sue bibite Anch'io E io sono sicuro Io ho speso praticamente Tutto quello che avevo Tutto Tutto Guarda Adesso dirà che sono 5 Capitano Ho le sue bibite Capitano 5 Davvero? Lo sapevo Non è vero Non è vero Io ne avevo scritte 10 Vabbè Dagliele 3 volte Vabbè Tieni Allora Ah neanche ce li ha pagato Perfetto Allora Let's go Sì E quindi Ok Credo che stia arrivando qualcosa E mi sa che dobbiamo attaccare Oh no Siamo pronti con i canoni Ah forse devo provare Forse mi danno l'onore di guidare questa barca No no Io non voglio guidare Io non voglio guidare Sì 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 Vi prego Non fate guidare a me Che vi faccio affondare tutti Aia Cannoni È un momento terribile Ci stanno cannonando Ma i nostri non sparano Fuoco Ho notato Ho notato Sparate Perché non sparano i nostri Ok Hanno iniziato Hanno iniziato Hanno iniziato Ok Ok continuiamo 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 Bravi 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 Continuate a sparare Mi raccomando Mi raccomando Aiuto Bravissimi Vi do Un angolo bellissimo Per continuare Bravi 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 Li stiamo massacrando Però vedi non è giusto Io volevo sparare Non guidare Cioè poi tanto fa guidare anche a me Che noia Però Comunque pensa che io sono appena arrivata nell'isola Per farti Farti capire quanto è durato Sono qua in guerra da dieci minuti Quanto è durato il viaggio E io sono arrivata adesso Totalmente arrivata adesso Forza continuate a sparare con quei bei cannoni Bravi Sì 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 Dobbiamo continuare Mi sa che ce l'ho fatta Ce l'hai fatta Guarda 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 Vedi che non ci sono più le vele Uuuuh Finalmente Perché l'ho disintegrata Finalmente Allora mi sta avvicinando adesso Sono pronto Sono pronto Ah no ma mi sa Che non era la barca Mi sa che ci stavamo disputando con un'altra nave Ok L'isola del tesoro Ah ecco Mi sto dirigendo adesso nell'isola del tesoro Guarda 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 E non vedo C'è una piccola grotta Oh che bello Qua ci sono già dei lingotti Li posso prendere Mi fai di prende Ho paura che mi buttino giù la nave Quindi un attimino Tiro qualche cannonata E poi guardo Cannonata e poi guardo Ok Vediamo Ok si ragiona Congratulation Ok ci siamo fatti l'oggetto Purtroppo non ce lo fa vedere Quando siamo qua Però dai vorrei anche dei soldi Vorrei qualcosina Ci date qualcosa? Dai io direi che ci possiamo fermare così Mentre Ferre continua a combattere Noi fermiamo il video Perché Ah è stato stancante ed impegnativo Quindi Direi che ci possiamo fermare così Fateci sapere con commenti E sondaggio Se vorreste vedere altri video Su questa mappa A priori Dal appunto Ottenere il bottino Quindi i vari Tesori estetici Perché secondo me È davvero carina E ci si può divertire Quindi ci fermiamo così Sondaggino Commenti Likes E ci fermiamo Per ragazzi E se la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare La vita di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.